Imprenditori uniti per obiettivi comuni. È stato firmato ieri sera a Fano l'atto costitutivo di Ristoritalia che coinvolge centinaia di baristi e ristoratori. Dopo la consegna delle chiavi al sindaco e la protesta pacifica in piazza è nato ufficialmente il movimento apolitico. Ieri sera c'è stato l'atto ufficiale, abbiamo firmato tutti quanti i consiglieri con il nostro presidente Vissani e da ieri sera siamo operativi, siamo circa 800, adesso stiamo provvedendo a fare tutto il tesseramento e nel breve aumenteremo perché comunque sia ci sono sia l'Umbria sia tutte le Marche e una parte dell'Abruzzo che comunque sia in qualche maniera si aggregeranno a noi. Gerardo, anche voi avete aderito a Ristoritalia, per quale motivo? Beh, perché il problema è nazionale, abbiamo tutte le attività ferme, siamo molto preoccupati per l'estate che arriva e quindi bisogna avere chiarezza, bisogna unirsi in un movimento più ampio per far sentire le nostre ragioni. Noi viviamo solo di turismo, quindi il 60% sono poi turisti stranieri, in questo momento non ci sono, non possono entrare nei confini nazionali e poi abbiamo la parte chiaramente nazionale, italiana. E in questo momento c'è la desolazione, quindi chi apre è vuoto, infatti sono qui a vedere questa bellissima città che c'è vita, così non sono più abituato dopo tre mesi di chiusura completa di tutto. Ristoritalia ha aderito alle varie iniziative organizzate su scala nazionale dal Movimento Imprese e Ospitalità, il quale a sua volta ha aggregato per la prima volta nella storia del settore una ventina di movimenti di imprenditori dell'Oreca. Questa mattina a Fano era presente il portavoce. Le città d'arte, le città turistiche, le zone turistiche della costa stanno avendo delle difficoltà enormi e tantissimi non hanno riaperto. È successo anche che tantissimi dal 18 di maggio hanno aperto per una settimana, hanno visto che gli incassi del 20% non coprivano il costo del 100% dell'azienda e quindi da lunedì hanno richiuso. La situazione è drammatica nel senso che una città come Fano che magari ha una clientela locale in questo periodo magari soffre meno perché c'è il cittadino di Fano che viene in un bar a prendere un caffè o mangia in un ristorante che ha il plateatico fuori. Nel momento nel quale arriva l'estate e magari l'afflusso dei turisti non è quello aspettato, lì per una città come Fano che vive di turismo potrebbe esserci un problema. Non ci lasciate soli perché fino ad oggi il governo ci ha trattato come gli ultimi perché dietro a noi tantissimi settori possono venire giù e crollare. In tanti, ci spiega Bianchini, non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione né il prestito previsto dal decreto liquidità. Anche per questo le difficoltà che stanno affrontando gli imprenditori sono enormi. Questa mattina ad accogliere i rappresentanti dei due movimenti e lo chef Vissani, anche l'assessore Etiel Lucarelli e il sindaco di Fano Massimo Seri. Allora anche questa presenza è un riconoscimento all'attività e alla vivacità di Fano ma vuole essere anche un monito verso chi deve fare un ulteriore sforzo per aiutare questo comparto che significa aiutare la città e il paese.